Alla fine dell'alta lena è arrivata, che botta quello della giornata di ieri, che ovviamente ha fatto il buono e il cattivo tempo tutto nell'arco di pochissimi minuti, andiamo a calcolarli proprio al dettaglio quanti minuti sono passati. Allora, sono stati 20 barra e 5 ore in totale e circa, quindi anzi per essere precisi 4 ore e 45 minuti, un sciacquone improvviso, che cosa è successo? Le liquidazioni, cosa è successo dopo e soprattutto atteggiamenti a confronto, un po' il pericolo insomma subito, l'ansia e tutto quello che riguarda sempre queste fasi di alta volatilità dei mercati cripto. Benvenuti insomma a tutti i nuovi investitori sui etf di bitcoin che si trovano davanti a questa nuova fase di volatilità. Siete benvenuti e sicuramente non ne eravate ancora scelta veramente da tanto tempo. Allora, lancio anche la moneta oggi perché, vediamo, è ancora dalla P, quindi ancora dice ragazzi, si sale ancora la moneta bitcoin. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare un po' di quello che è successo ieri, ma soprattutto andiamo a vedere due cose straffiche. Primo, il grafico di ETH perché vi avevo promesso che parlavamo anche di una questione legata alla possibilità imminente appunto di questo legamento da parte di Ethereum dalla sua fase di ancora debolezza e negli ultimi mesi lateralità rispetto a bitcoin. Ce la fa, non ce la fa, quali sono i dati e i dettagli, ma attenzione ci sono delle cose che vanno assolutamente viste e voglio mostravela appunto in questo video. E poi una strafigata alla fine del video, incredibile. E' vero che se andiamo in Price Discovery, ieri abbiamo fatto il massimo storico di bitcoin, anche se è durato 14 secondi praticamente, però se andiamo in Price Discovery è possibile che non ci sono degli strumenti, degli indicatori che noi possiamo utilizzare per verificare dei nuovi livelli di resistenza. Un indicatore c'è, lo avevo mostrato in tanti video fa, ragazzi ma poi ne facciamo veramente tanti di video, quindi chissà dove è finito quel video lì. Allora, semplicemente lo rifaccio vedere nel video di oggi, quindi occhi aperti. Prima di andare avanti, se non mi fate un mi piace, non mi lasciate il polliceone su questo video, non vi iscrivete al canale, allora siete dei truffaldini e siete voi che avete liquidato bitcoin, vabbè, scherzi a parte. Allora, vi faccio vedere intanto quello che è successo nella giornata di ieri, lo sciacquone che abbiamo visto qui, che cosa è stato? Intanto anche al di là delle 4 ore e 45 minuti sbalortitivo, è impressionante l'entità della violenza di ribasso nell'arco di così poco tempo. Parliamo di un 14 e 40%, pensate anche che è un livello di ribasso di questo tipo spesso nei mercati classici avviene all'interno di un intero anno, più o meno. Vabbè, allora 4 ore e, beh, ragazzi, bottaglie russe si vive così. Poi che è successo? Poi vedete quello che è successo nei giorni successivi, una V, veramente difficile vedere una ripresa AB, però questa volta l'ha fatta, seppur anche con una fase di leggera riaccumulazione in questo punto. Non vi nascondo che ieri abbiamo anche subito alcune cose, alcuni stop, cioè uno stop, in Academy di uno dei miei sistemi, però la cosa figa qual è? Che è rientrato a prezzi più bassi, quindi in realtà agli attuali prezzi è addirittura in guadagno superiore rispetto alla perdita di ieri. E questo è interessantissimo perché pone l'accento sul rispetto delle strategie, anche in momenti estremamente veloci, estremamente emotivi come questo. Ovviamente l'utilizzo dei strumenti di natura tecnica, quindi i bot, le automazioni, facilita, ragazzi, perché premere i bottoni in un determinato momento con mercati del genere è follia farlo a mano, ma avendo la tecnologia per poter delegare tutto a un bot è tutto più semplice, ovviamente, però concettualmente quello che fa la differenza è il rispetto delle strategie. Ve lo svelo poi con calma quello che abbiamo fatto nella giornata di ieri e che ho fatto io, vi mostrerò anche i messaggi pubblicati, perché il senso della cosa non sta nel fare profitto o perdita, possiamo anche perderla questa operazione che è stata aperta, ma è nel rispetto del nostro trading plan, della nostra strategia, che in pratica elimina l'aspetto emotivo, quindi queste fluttuazioni, al di là del risultato, che vi ripeto, ok, non lo guardiamo sempre il risultato, ovviamente preferisco che sia positivo, però non è utile come il resto, perché il risultato viene da sé poi, se voi rispettate la strategia, se la strategia è costruita con dei canoni e dei criteri adeguati. Allora, andiamo a vedere la questione delle liquidazioni, quello che è successo è visibile in questo video, ragazzi, allora, erano un po' di giorni che c'erano delle posizioni estremamente impattanti sulla lato long, soprattutto questo si evince se andate a guardare, per esempio, sugli exchange, quelli che sono i livelli dei funding che pagano per il mantenimento delle posizioni future aperte sulle criptovalute. Se i funding sono molto alti, allora significa che c'è un eccesso di posizione long su quei tipi di mercati, questo significa che prima o poi il mercato farà uno sciacquone per riequilibrare questi livelli, ve li faccio vedere. Ecco ragazzi, quelli che sono i livelli del funding, per esempio, presi dall'exchange BitGet. A proposito, ragazzi, per questo mese, il mese di marzo, mi hanno dato una super prova per quanto riguarda BitGet. Vi metto il link in descrizione, vi regalano 100 dollari con un semplice deposito di 100 dollari. In pratica, depositati 100 dollari, vi regalano 100 dollari, li usate per fare trading e se volete vi potete riprendere anche i vostri. Vi lascio il link in descrizione, la promo è questa qui. Mi raccomando, sfruttatele queste cose perché se regalano, quando regalano, ben venga, insomma, ecco, e ci sta. Allora, link in descrizione per quanto riguarda BitGet. Allora ragazzi, mentre questi livelli qui, questi livelli qui dei funding, ci danno un'informazione ben precisa. Per esempio, guardate, sul BTC USDT, ogni 8 ore l'exchange preleva lo 0,0495 sul vostro capitale, cioè sull'importo che voi avete utilizzato per fare il vostro trading, quindi per, diciamo, inserire il capitale per il trading, che ovviamente è comprensivo anche della leva, eccetera. Quindi non solo sul margine, ragazzi, bensì viene addebitato sull'intero importo. Quindi se io vado a comprare, per esempio, un Bitcoin, anche se metto il margine con una leva a 20, metto il margine che è molto più basso, insomma, quindi dagli attuali valori più o meno 13-14 mila euro, allora vado a mettere quel margine, ma non è su quel livello che viene calcolato il funding, bensì sulla posizione complessiva, che in quel caso sarebbe appunto 66-67 mila dollari di prezzi di oggi di Bitcoin. Ciò significa, e viene calcolata anche ogni quattro, ogni otto ore. Tra le altre cose, vedete come varia, perché il tasso di finanziamento è variabile. In questo momento è aumentato, per esempio, un po'. Questo significa che per mantenere attiva la mia posizione in leva finanziaria, utilizzando i future, io dovrò pagare in questo momento circa lo 0,14-15% al giorno per mantenere attiva quella posizione in holding sul mio portafoglio, che è tanto, ragazzi. Anche se non sembra mai tanto, ovviamente, l'utilizzo dei future è molto comodo per una questione legata alla leva finanziaria, perché altrimenti non ha senso. O faccio lo short selling e quindi utilizzo i future, oppure utilizzo la leva finanziaria per andare in coi future. Anche l'utilizzo di una leva 2-3 può essere estremamente agevole, per esempio, per non mettere i nostri capitali tutti sui checks che sappiamo, insomma, essere sempre a rischio, eccetera. Oppure perché io con gli altri magari li metto in se fai, defai, e ci faccio altri rendimenti, eccetera. Quindi è molto interessante l'utilizzo anche della leva, quella corretta, diciamo, una leva folli, con una logica ben determinata. Però quando i tasti di finanziamento e quindi funding sono molto alti, attenzione che questi sono quelli di BitGet, ma quelli degli altri sono identici, quindi non vi credete che ci sia una differenza rispetto agli altri exchange, non c'è, e se c'è è solo momentanea, poi viene colmata quasi sempre. Quando sono molto alti, e in questo momento sono ancora molto alti, precedentemente erano ancora più alti, succede questa cosa qui, che le posizioni long sono estremamente, sono molte, e quindi per mantenerle attive la controparte, gli short vogliono pagarti di più. Questo è il discorso, perché quando noi utilizziamo i future, ci deve essere una parte che poi ci presta il contratto, altrimenti, insomma, non possiamo andare a leva, eccetera. Perciò, se sono troppi, a un certo punto c'è la liquidazione che riequilibria questi livelli. Ma, a dire la verità, il funding su Bitcoin è sceso un po', ma non tantissimo. Guardate che ci sono anche, tipo, delle crypto come LTC, che ha un funding di 0,08% ogni otto ore, quindi molto più alti. Altri ce l'hanno addirittura negativo. Negativo vuol dire che vi pagano se avete le posizioni in portafoglio, si possono fare delle figate di strategia con queste cose. Fatto sta che, in pratica, gli exchange poi hanno liquidato, in pratica, moltissime posizioni che erano aperte in leva finanziaria, che però si sono riaperte dopo poco. In ogni caso, in linea di massima, questa è una delle più grosse, più massicce liquidazioni di tutti i tempi di Long. Quasi un miliardo, 892 milioni di liquidazione avvenuti nella giornata di ieri. 892 milioni di liquidazione, quasi un miliardo liquidato quasi tutto relativo ai trader, ovviamente agli speculatori. Ora, quindi non conviene speculare, non c'entra niente. Queste cose un trader e uno speculatore deve conoscere, deve sapere che c'è questo pericolo e questa probabilità. Quando i funding sono molto alti, questa probabilità aumenta. Quando le corse degli asset finanziari sono forti a livello rialzista, questa probabilità aumenta ancora di più. Se siamo quindi in eccesso di euforia, questa probabilità aumenta ancora di più. Ciò significa che dovete avere la formazione per poter operare con questi strumenti. Non basta aver letto due fesserie e due cose che per lo più sono quasi sempre, sottovalutano alcuni rischi. Ecco, sono scritte in maniera estremamente superficiale. Dovete essere molto attenti ed approfondire. Però ricordate che anche questi momenti sono grande esperienza per chi di voi è all'interno del mercato. Fatene sempre tesoro, perché sbagliando si impara. Quindi se anche qualcuno di voi è rimasto liquidato, amen, va bene? Fa parte del gioco, ragazzi. Rimettete i remi in mare e ricominciate a remare verso il lato giusto, ma con la dovuta formazione. Non vi permettete a fare queste operatività senza la formazione, ragazzi, perché vi fate malissimo, va bene? Mi raccomando. Allora, fatto sta che questo è stato il meccanismo della liquidazione. Attenzione che erano già avvenute altre liquidazioni nei tempi passati. Per esempio il 3 gennaio è avvenuta una liquidazione, l'11 dicembre, e sono stati liquidati anche tanti short. Per esempio nelle giornate precedenti, il 28 di febbraio, sono stati liquidati tanti short. E anche l'altro ieri e anche ieri stesso un po' di short sono stati liquidati. Fatto sta che in pratica queste liquidazioni non hanno impattato sulla questione legata ai ETF che hanno continuato ad accumulare nella giornata addirittura di ieri. Sono stati accumulati 10.000 Bitcoin e guardate com'è sceso, come era da nostra attese il totale di Bitcoin che ha Grayscale in questo momento. E ancora deve scendere. Siamo ancora in atto di rotazione. Guardate come stanno continuando a depluire i Bitcoin da Grayscale e si spostano, o vengono venduti o si spostano. Quindi non siamo ancora nelle condizioni di avere un accumulo costante da tutti gli exchange. C'è ancora in atto una rotazione, scusate, da tutti gli ETF. C'è ancora in atto una rotazione. Quindi quello che noi vediamo in questo momento è un accumulo nonostante la rotazione. Ed è una cosa molto importante perché ci dà la giusta chiave di lettura anche di questo momento di hype e di euforia che inevitabilmente sta arrivando. Io nell'ultima settimana ho iniziato a vedere i primi segnali dell'euforia, quella che incominciano a farmi grattare le mani per dire stiamo arrivando. Ancora non siamo arrivati, ma stiamo arrivando. Attenzione però a confondere i primi segnali con i prezzi perché i prezzi possono poi in pochi mesi di euforia fare numeri stellari. Quindi non c'entra niente. L'idea del concetto di avvertenza stiamo per andare in bolla. Stiamo per andare in bolla secondo me, stiamo per andare un po' in bull run eccessiva. Però ancora non ci siamo. Ci sono i primi segnali, i primi segnali di fumo che vedo dall'alto. Allora, quindi non sono stati liquidati ovviamente posizioni di ETF Bitcoin. Non c'entrano niente queste liquidazioni, riguardano esclusivamente i trader. Cosa è successo nei momenti precedenti? Tutto questo ha portato a vendita, ha portato poi addirittura il prezzo a scendere su un minimo prezzi, diciamo, index di TradingView 59,173. Da prima che erano stati toccati i 69,156 massimo storico di Bitcoin aggiornato. Quindi nella giornata di ieri è durato 14 secondi. Va bene, questo è stato simpaticissimo. Allora, cosa attenderci ora? Inevitabilmente è inutile che vi ricordi il video che avevo fatto della questione dell'altalena del ciclo mensile di Bitcoin. Difficilissimo da dire adesso se il ciclo mensile di Bitcoin è stato chiuso nella giornata di ieri e non il 23 di febbraio. Ve la faccio spicciola e parole molto povere. Però il concetto è proprio questo, perché non sappiamo in nessun modo se questa cosa è avvenuta. Però la teoria dell'altalena, che era quello di cui avevamo parlato, che doveva avvenire entro sabato o domenica è arrivata martedì. Quindi ora, questo martedì va bene lo stesso. 42 giorni sono sufficienti per la questione di un ciclo mensile. Sono tanti ma adeguati. Non è un'anomalia eccessiva. Soprattutto con un rialzo di questa portata. Però è anche vero che dobbiamo un po' attendere per capire questa cosa. Certo è, ve lo dico in maniera molto chiara, se ieri è stato chiuso un ciclo mensile di Bitcoin, i massimi storici attualmente strutturati dureranno pochissimo. È questione di ore e massimo giorni, non di più, perché il mercato aggredirà nuovamente quel livello di massimo. Altrimenti no. È questo il problema. Cioè se quella candela di ieri non appartiene alla chiusura di un ciclo mensile, ma bensì è il ciclo precedente, allora è possibile che dobbiamo andare proprio nella fase di chiusura e quindi magari restiamo in questo limbo laterale per un po'. Ma se, secondo me, se andiamo a spondare entro domani e dopodomani questi livelli di massimo, possiamo anche ragionare sulla chiusura del mensile fatta, però l'ho aggiornato ieri. Comunque ne parliamo settimana prossima, perché oggi non è un video di nasi ciclica. Andiamo a vedere quello che invece è la questione di Ethereum Bitcoin, perché intanto prima voglio farvi vedere il grafico di ETH che sta sovraperformando Bitcoin negli ultimi giorni e sta andando meglio di Bitcoin anche lui negli ultimi giorni. Continua questa fase di acquisto accumulato che sembra proprio essere pilotato. Su ETH ha subito le liquidazioni, ma oggi ha fatto nuovi massimi. Guardate, è palese che ci sia in pratica una linea diritta. Quindi questi sono acquisti che arrivano, stanno arrivando degli acquisti evidentemente nell'ottica dell'approvazione. dell'eventuale ETF di Ethereum, che attenzione ragazzi, io vi ricordo che la fase pre-approvazione dell'ETF di Bitcoin è stata potente, ma non quella che stiamo vedendo adesso. È quello che è avvenuto dopo l'approvazione dell'ETF di Bitcoin che ha destato veramente un impatto enorme, che sta facendo, diciamo, i numeri. Ve lo faccio vedere anche qui. È vero, qui avevamo avuto questa fase di alzista che è stata interessante, però dopo l'approvazione abbiamo ritracciato, siamo ritornati qui. Quindi la fase di post-approvazione degli ETF di Bitcoin è arrivata in un'espansione del 78,85%, mentre la fase precedente, quella di fase, diciamo, rialzista era stata fino al minimo del 52%, quindi la struttura di boom dopo l'approvazione e quindi dopo l'accumulo è stata maggiore. Ora, nel caso specifico su ETH, si sta assistendo probabilmente a una fase, diciamo, iniziale. Poi è possibile anche assistere a una fase forse più forte proprio dopo l'approvazione. ovviamente se l'approvazione ci sarà, se non ci sarà l'approvazione di ETF, ovviamente è tutto da rivedere. Fermo restando, la questione legata su ETH al momento sembra indicare in maniera abbastanza chiara un flusso costante, costante, di acquisto, senza neanche liquidazioni. Ragazzi, questa è una retta perpendicolare, una cosa incredibile, quasi un attico conale, diciamo così. Va bene, detto questo, andiamo a vedere però l'altro grafico, quello più importante, perché alla fine dei conti, se ETH sale, ma sale anche Bitcoin, conviene comunque tenere sempre Bitcoin, alla fine è più liquido, è più sicuro da certi punti di vista, è più scambiabile da alcuni altri punti di vista, eccetera, a di là poi della preferenza personale, però una cosa che è più grossa e più liquida è sicuramente più stabile, da un certo punto di vista, quindi non conviene quel tipo di logica. però da alcuni giorni, per esempio nella giornata di ieri e anche oggi, Ethereum ha iniziato nuovamente una struttura ciclica su Bitcoin. Ora, è la struttura che abbiamo in questione che deve darci dei segnali ed è una struttura molto importante. Da qui, da questo livello di minimo, che dovrebbe essere il 9 di gennaio, oppure se usiamo la close, l'8 di gennaio, in questi tipi di grafici le shadow hanno importanza tanto e non quanto sarebbe meglio utilizzare, diciamo, questo grafico un po' più smussato. Comunque, non cambia granché in questo caso. È iniziato sicuro un trimestrale ciclico nuovo contro Bitcoin, che vista la durata attuale che è di circa 59-60 giorni, sarebbe indicativo, secondo me, dell'inizio di un nuovo ciclo annuale proprio di Ethereum contro Bitcoin iniziato qui. Questo è anche significativo perché stiamo attendendo un ciclo molto forte su Ethereum Bitcoin, cioè il quadriennale, ed è un ciclo anticipatorio di quello che potrebbe essere la vera alt season, quella promettente, ragazzi, quella che fa boom, 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 per intenderci. Bisognerà ovviamente vedere, qui sono sempre dati passati che noi trasferiamo al futuro, quindi con le dovute cautele, ragazzi, è inutile che ve lo spiego, ogni video, ma c'è sempre quello che mi scrive, queste fesserie, cioè, stiamo comunque utilizzando il passato per avere una visione del futuro che ovviamente non sarà identico al passato, questo già lo sappiamo, però qualche indicazione la possiamo ottenere, sicuramente è meglio guardarlo piuttosto che non farlo. Quindi, in questo caso, questo tipo di grafico, secondo me, è da monitorare, perché, ragazzi, una fuoriuscita da questa barra di congestione a un superamento di questo livello, per me è un segnale forte di buy nei confronti di ETH rispetto anche a Bitcoin ed è un segnale, secondo me, importantissimo dell'inizio di una nuova fase per quanto riguarda le criptovalute e bisogna essere preparati, io vi dico che in questa fase bisogna essere preparati, non mi aspettavo questi scivoloni di bassisti, quindi vuol dire che ancora Bitcoin è molto forte, sono sincero, e poi c'è un altro grafico che adesso vi faccio vedere che è importantissimo di andare a guardare che va ammesso insieme a questo, ora è anche possibile che la chiusura di questo trimestrale sia in una barra di congestione, cioè una cosa del genere. Questo, a dire la verità, non mi lascerebbe neanche titubbante, tanti ad essere, diciamo, non mi farebbe stare neanche titubbante, anzi, lo sfrutterei, vi dico proprio la sincera verità, lo sfrutterei in quel caso per tentare in maniera estremamente speculativa, uno switch su ETH in maniera addirittura proprio speculativa, quindi non attendendo neanche inversioni o roba del genere, ovviamente con piccole proporzioni di capitale, però sarebbe interessante, ma io ho paura che il mercato questa cosa non la faccia e che Ethereum addirittura anticipi questa struttura ciclica e provi a spingere facendo una roba del genere, perché di solito il mercato non lascia tanto spazio all'ingresso, quindi un po' sto monitorando questo grafico, perché secondo me è veramente un grafico importantissimo e poi vi faccio vedere anche quest'altro grafico che è il grafico della dominance di Bitcoin, dominance di Bitcoin contro le altre crypto ma è esclusa tutte le stablecoin, quindi quello che vediamo qui è la vera dominance di Bitcoin esclusendo tutte quelle che sono le stablecoin del mercato, non le algoritmiche, quelle classiche che hanno più capitale, che hanno diciamo più impatto sulla dominance, questa è la vera dominance di Bitcoin e che è successo? Da qui, dal minimo dell'8 di gennaio è iniziato probabilmente un altro annuale della dominance delle crypto che però, che però non ce la fa in questo momento a superare questa zona. Attenzione quindi a questo livello di massimo, perché questa annuale è importante, qualora, qualora questa struttura non ce la faccia a fare una roba del genere a spingere la dominanza di questo, questa dominanza di Bitcoin sui 62-63, allora c'è il rischio che questa struttura annuale possa essere, virare poi al ribasso in maniera molto veloce. Che succede se lo fa? Che poi si vincola a livello ciclico l'annuale ad essere ribassista per Bitcoin in termini di dominance, ciò significa che Ethereum sarà più forte di Bitcoin per un anno. Va bene, questo è concettualmente il discorso della quello che volevo farvi vedere e sono i grafici che terremo sotto stretta osservazione per i prossimi due mesi, quindi occhi puntati su queste cose perché sono delle occasioni secondo me irripetibili. L'ultima volta era il 2019, mi raccomando ragazzi perché non è una cosa così, siamo al 2024, la prima volta di cui parlavo di queste cose era il 2017 e non so neanche se ne parlavo su YouTube però devo essere sincero e quindi la prossima sarà, non lo so quando sarà ma voglio dire ci sono tanti anni poi da attendere quindi attenzione formazione in questo momento abbiamo avuto un anno di tempo per formarci e stare dietro al passo queste sono dati sono dati veramente importantissimi. Ultimo grafico che volevo farvi vedere oggi e chiudiamo la questione quello legato alla ho perso i grafici ok, quello legato alla previsionalità di Bitcoin ma sono usciti 24 minuti e niente ragazzi è finita così con un bel cliffhanger finale ve lo mostro venerdì perché non facciamo in tempo il video mi viene 35 minuti ed è troppo lungo tanto comunque non è una cosa imminente e fino a dopo domani potete aspettare ve lo mostro venerdì il grafico è lo strumento da utilizzare per avere i nuovi livelli tecnici di Bitcoin se superiamo la TH quello fatto ieri a dire la verità vabbè è durato poco ciao 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 ciao